Musica 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 Ma... Musica 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 Guarda quello Assomiglia un po' a te Cos'è? Pazzesco Musica 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 A che cosa? Musica Che sei mia Non ricominciare. Io non ti merito. Niente. Niente potrà mai cambiare quello che provo per te. Chi è fan di Joaquin Phoenix? Io. Ho scoperto che anni fa si è cappottato con la macchina in un incidente e il regista tedesco Herzog, che era con lui seduto dietro, ha raccontato di averlo aiutato a uscire, non prima però di avergli tolto l'accendino con cui stava per accendersi una sigaretta mentre la benzina usciva dal motore. Ragazzi, vi ricordo che potete seguirci anche su TikTok, trovate il link in infobox. Ciao da Valeria.